Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla statale 1 Aurelia dove ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori 3 km 124 e 131 tra Garavicchio e Ancedonia Sud. Sulla statale 62 della Cisa senso unico alternato in entrambe le direzioni 3 km 27 400 e 27 430 tra Villa Franca in Lunigiana e Pontremoli. Il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A11 si raccomanda attenzione per il fumo segnalato tra Lucca a Ovest e l'allacciamento con la 12 a Pisa. Infine per gli aerei i voli da Düsseldorf attesi a Firenze alle 16.55 e alle 23.10 sono stati cancellati così come il volo da Firenze a Düsseldorf delle 17.35. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!